ultimo chilometro come san pietro più o meno a 1200 metri adesso siamo a 1197 percorsi 50 chilometri mancano una settantina fa freddo lo sentirò quando scenderò c'è neve spettacolo niente dopo che arriviamo in cima mi vestivo al volo poi si scende è incredibile come in città di valecco ci fossero mille macchine e qua non c'è neanche un cane ciao a tutti